Ciao a tutti, oggi vedremo come creare l'effetto telecinesi con Adobe After Effects Qua ho già pronto un video in cui io entro in una stanza, faccio finta di controllare la bottiglia poi grazie al programma la bottiglia si alzerà magicamente e si abbasserà ecco vedete poi la abbasso e poi la alzo, la prendo e la bevo questo passaggio è importantissimo perché noi dovremmo registrare lo sfondo dietro la bottiglia in modo che questo appaia quando io alzo la bottiglia quindi chiudiamo il video e importiamo il video nel programma quindi importiamolo nella timeline e a questo punto lo dobbiamo importare per una seconda volta quindi importiamolo nuovamente e lo mettiamo al primo posto a questo punto dobbiamo rinominare i due video quindi il primo premiamo invio e lo rinominiamo sfondo bottiglia e premiamo invio il secondo premiamo invio e lo rinominiamo stanza perfetto a questo punto selezioniamo il video sfondo bottiglia e ci portiamo nel punto in cui io ho alzato la bottiglia quindi qua ad esempio e memorizziamo il tempo che vedete a sinistra della timeline in arancione in questo caso 22 secondi lo dobbiamo memorizzare a questo punto ci portiamo all'inizio del video e con lo strumento penna controllando che si ha deselezionato roto bezier andiamo a ritagliare una maschera intorno alla bottiglia ecco qua perfetto a questo punto dobbiamo cliccare col tasto destro oppure se siete in Macintosh con CTRL e tasto sinistro sul video sfondo bottiglia andiamo su tempo attiva modifica tempo ora vedete che sono creati due fotogrammi uno iniziale e uno finale sotto il video sfondo bottiglia quindi selezioniamo quello finale e cancelliamolo premendo il tasto Cance ora ci posizioniamo all'inizio del filmato sfondo bottiglia e impostiamo il tempo vedete l'impostazione sotto sfondo bottiglia modifica tempo e impostiamo a 22 secondi ecco qua ora vedete che la bottiglia non si vede più poi si vede solo quando io la alzo a questo punto riduciamo il menu di sfondo bottiglia cliccando sulla freccetta qua e ci torneremo dopo a lavorare importiamo nuovamente il video dal progetto e lo mettiamo sempre al primo posto stavolta sempre premendo invio lo rinominiamo con il nome di bottiglia e premiamo invio a questo punto ci posizioniamo all'inizio del filmato e con lo strumento penna e dovremo ritagliare una maschera attorno alla bottiglia per fare un lavoro più di precisione per fare un lavoro più di precisione dobbiamo aumentare lo zoom quindi qua in basso a sinistra del video trovate lo zoom e lo portiamo a 200 con lo strumento mano ci posizioniamo nel punto in cui c'è la bottiglia quindi riselezioniamo lo strumento penna e controllando che sia deselezionato lo strumento e deselezionato roto bezier iniziamo a ritagliare una maschera attorno alla bottiglia ecco qua direi che così va bene a questo punto espandiamo il menu del video bottiglia cliccando sulla freccetta grigia espandiamo maschere espandiamo maschera 1 e portiamo la sfommatura maschera a 2 pixel poi dipende se siete stati molto precisi nella costruzione della maschera allora metterete sempre meno sfumatura se è un video di buonissima qualità ne metterete un pixel e insomma adesso siamo stati precisi quindi direi che 2 pixel va bene potremmo fare anche 3 però 2 pixel va bene quindi riduciamo il menu maschera 1 e riduciamo il menu maschera a questo punto riportiamo lo zoom come era prima quindi adatta fino al 100% in modo da vedere tutto il video intero e poi selezioniamo lo strumento selezione ci portiamo un po' prima che io inizio a controllare la bottiglia quindi qua espandiamo il menu trasformazione del video bottiglia e clicchiamo sul cronometro di fianco a posizione quindi ci portiamo un po' in avanti quando io inizio ad alzare la bottiglia e controllate di aver selezionato lo strumento selezione e alzate un po' la bottiglia quindi andate un po' più avanti e alzate la bottiglia la bottiglia si alza sempre di più attenzione a non selezionare la maschera ecco qua poi la bottiglia inizia a scendere ecco poi quando arriva qua noi dovremo far ritornare la bottiglia esattamente nel punto in cui io la alzerò per poi berla quindi dobbiamo portare a questo punto l'opacità di tutti e tre i video a 50 quindi l'opacità si trova nel menu trasformazione quindi espandete il menu trasformazione e portate l'opacità a 50 del video bottiglia poi espandete sfondo bottiglia espandete trasformazione portate l'opacità a 50 espandete stanza espandete trasformazione e portate l'opacità a 50 quindi a questo punto torniamo al video bottiglia selezionatelo e per fare un lavoro ancora più di precisione andiamo su vista e mostra controlli livello per toglierli quindi vedete che non ci sono più i bordi gialli che vedevamo prima quindi ci portiamo nel punto in cui la bottiglia deve essere a terra e la mettiamo esattamente dove si vede nella trasparenza ecco qua vedete che poi non è tanto difficile a questo punto possiamo pure rimettere i controlli video ecco quindi se noi ora guardiamo ora dobbiamo riportare l'opacità dei tre video a 100 sempre dentro trasformazione quindi riducete i menu del video stanza e i menu del video sfondo bottiglia a questo punto se noi vediamo un'anteprima vedete io arrivo la controllo la alzo e poi la abbasso ora aggiungeremo degli elementi realistici quindi selezioniamo il video bottiglia e andiamo a modificare un po' i punti del movimento per ondularli quindi modifichiamo un po' questo per fare un movimento un po' più ondulato se noi guardiamo è un movimento un po' ondulato vedete ecco vedete che è abbastanza realistico a questo punto io in questo video vedo un leggero problema di luce poi soprattutto in altri video avrete dei problemi di luce perché infatti il video sfondo bottiglia la maschera che abbiamo creato può creare questi problemi quindi aggiungete un po' di sfumatura quindi espandete il menu di sfondo bottiglia espandete maschere espandete maschera 1 maschera 1 e portate la sfumatura a 4 pixel per me va bene 4 anche perché ecco vedete che adesso io prima vedevo un problema proprio che forse dal video di youtube non lo vedete neanche voi grazie a tutti